Noi siamo cittadini, abbiniamo in questa zona e stiamo corollando fisicamente, oralmente ed economicamente. La disperazione nella voce rotta dal pianto, questa mattina arriva da Corso Umberto I a Torre del Greco, qui dove il tempo si è fermato dopo il crollo della palazzina, domenica 16 luglio 2023. L'economia è in ginocchio, i cittadini sono rassegnati e l'aria è diventata una discarica abusiva. Non ce l'ho col sindaco perché lui si sta muovendo e l'inciviltà dell'è perso. O mette delle telecamere, vedi chi viene a depositare qua, qualcosa si deve fare, speriamo che si muovano presto. Com'è cambiata la vita di chi abita qui dopo il crollo? E' crollato, è crollato, vi ho detto fisicamente, moralmente ed economicamente. Io ho mia madre e mio padre qui, comunque alloggio con loro, praticamente tutte le sere è la stessa storia. Io a volte esco di là proprio perché c'è una puzza e c'è tutto in comprande qua. Lei cosa chiede all'amministrazione comunale? Io sono un cittadino che è più o meno... L'ha segnato? Sì, l'ha segnato ormai, non so più cosa dire. E' diventato uno scempio, non si fa più avanti, l'inciviltà delle persone è troppa. E' sempre una schifezza, non vedono mai quelle che devono fare, va bene? Sono venuti a pulire, i giorni scorsi? Sì, ho visto, le squadre dei vigili fuori che... però è sempre una schifezza, guarda qua, sempre. E' diventata una discarica abusiva? Sì, va, sempre. I nostri, il sindaco, fa quello che può fare, sempre. Non è cambiato perfettamente niente, anzi sta peggiorando spazzatura, mobili, materassi, tutto di più. Anche il palazzo è caduto, non hanno preso più i prevedimenti. Dicono che devono venire a settembre, per il pericolante, ma non è venuto nessuno. Da quando è crollato il palazzo, com'è cambiata la vita di chi abita qua? E' sempre peggio, già si parla da se, no qua. Si vede che è uno schifo proprio. I residenti non vogliono più pagare le tasse? Ma che dobbiamo pagare qua? Siamo pieni di topi, pieni di sporcizze, non si capisce niente. Basta tasse, oggi è questo, il messaggio di residenti e commercianti della zona alle istituzioni. L'avete sporca, sporca, sporchissima, sta proprio rovinata. Poveri loro che abitano qua. Non ce la prendiamo con le istituzioni, prendiamocela con l'essere umano. Si riferisce a chi viene a depositare questi rifiuti? Chi viene a depositare questi rifiuti? Chi ha causato il disastro qua e noi se ne è lavato le mani? Poi lo vogliamo dalle istituzioni di Torre del Greco. Non funziona così. Facciamoci un esame di coscienza. Prima era la migliore zona di Torre del Greco. E' una discarica abusiva, vengono sversate. Bra, sì, sì. Siamo chiusi dentro, non aprono questa strada. Io abito proprio a Bicopizza. Niente. Hanno uscito su internet che dovevano iniziare i lavori, ma niente. Ha fatto tutto che la festa, il sindico, quattro altari e poi qua. Questo quinto altare. Grazie. 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 Grazie.